Buongiorno, siamo qui con il professor Angelo Rinaldi, emerito dell'Università di Bergamo, esperto in analisi e valutazione dei beni materiali e stima del danno da contraffazione, e con il dottor Giovanni Rinaldi, studioso di teoria dei giochi e analisi delle decisioni strategiche, per parlare del danno da contraffazione e teoria dei giochi, argomento trattato nel vostro ultimo libro. Professore, come è nata la decisione di questo libro? La decisione di questo libro è nata osservando la realtà che ci circonda, cioè l'affermazione sul mercato di prodotti sempre più complessi. Questa complessità è di tipo tecnologico, quindi è il sedimentarsi, lo stratificarsi di brevetti numerosi, alcuni più importanti, altri decisivi, altri marginali, i quali oltretutto interagiscono tra di loro, creando delle sinergie non tanto di tipo economico quanto di tipo tecnologico. Questo tema va visto sia sotto un aspetto di sistema, cioè il pericolo che l'attività di brevettazione si trasformi, o più che altro i brevetti si trasformino in commodity sotto un certo aspetto, dall'altra parte del tema oggetto del libro, il problema della determinazione del risarcimento, quando uno o pochi brevetti vengono contraffatti nel contesto di un prodotto molto complesso formato da tanti brevetti, tra i secret al tempo stesso. Questo tema porta all'applicazione di criteri di apportionment che nel caso del metodo della royalty possono essere declinati sia sulla base piuttosto che sul tasso e questo può creare dei problemi applicativi che devono essere declinati. Grazie mille. Passiamo adesso a lei, dottore. Come si inserisce la teoria dei giochi in questo contesto? La teoria dei giochi è il quadro analitico per razionalizzare le interazioni strategiche. Il nostro obiettivo è stato quello di modellizzare il metodo della stima del danno e nel metodo della royalty il licensing rappresenta l'attuazione di una contrattazione conflittuale o meno. Dunque il nostro è un tentativo di tradurre questa contrattazione nella teoria dei giochi attraverso la teoria del bargaining di Nash, che è volta appunto a trovare una soluzione a questa circostanza di contrattazione. La soluzione rappresenta quindi un punto di equilibrio tra le parti che può essere l'espressione, anche forse teorica, della royalty coerente alla circostanza e alla fattispecie in esame. Dunque ci viene un attimo da domandarsi perché non ci abbiamo pensato prima. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.